Grazie per l'attenzione, una buona giornata a tutti. È il momento di messi alla prova. Oggi gli scienziati dell'Università Bicocca ci dimostrano come in futuro potranno aiutare i pazienti con disturbi del movimento. Andrea Silla. Come si comporta il cervello quando ad esempio deve prendere una cosa, afferrare un oggetto? Messe alla prova all'Università nella vita di tutti i giorni, oggi si occupa di tutte quelle ricerche molto utili per problemi come l'ictus che studiano appunto il cervello e il suo comportamento quando si tratta di afferrare degli oggetti. Angelo Maravita è docente all'Università Bicocca. Allora ci sono studi molto importanti per capire come si comporta il cervello. Sì, quando noi afferriamo un oggetto il cervello tiene conto di due cose. La prima è cosa dobbiamo afferrare. La seconda è la forma e l'immagine che ha il nostro cervello del nostro corpo che rimane stabile mentre quella dell'oggetto può cambiare di volta in volta a seconda delle situazioni. Ecco, ci sono casi in cui, lo avete provato, cambia il comportamento del cervello nel caso in cui ad esempio la mano si ingrandisse. Esatto, noi abbiamo usato una tecnica televisiva per riuscire ad ingrandire in modo artificioso la dimensione osservata della mano mentre il soggetto sta afferrando un oggetto, qui c'è il dottor Bernardi che collabora con me. E che cosa avete notato? Quello che abbiamo notato, registrando il movimento attraverso un'apparecchiatura sofisticata, è che il cervello si fa ingannare un po' da quello che vede. Se vede una mano più grande, si comporta come se effettivamente la mano fosse diventata più grande e quindi il movimento ha delle caratteristiche cinematiche differenti. Insomma, il cervello si dimentica di tutto quello che ha saputo sulla sua mano per gli anni precedenti e adegua a quello che vede e quindi adegua il comportamento del cervello su una mano più grande. Uno studio altamente sperimentale che però ha applicazioni pratiche. Certo, noi pensiamo che questo tipo di studi possa essere utile per esempio per quei pazienti che hanno dei disturbi del movimento in seguito a una lesione cerebrale, una malattia neurologica. Si potrebbe usare questo apparecchio un po' come una sorta di lente d'ingrandimento per favorire il recupero del movimento graduale in questi pazienti. Grazie per le notizie della telegiornale di Bocca.